Sì, esattamente. La ragione per cui si trasformano in lucertole o animali denota che vengono da questa quarta dimensione oppure da questa sfera che è la quarta dimensione perché non appartiene a altre dimensioni, non ha forma, quindi deve appartenere alla quarta dimensione come anche le nostre emozioni, non si trovano nel corpo, i pensieri non si trovano nel corpo. Quindi sì, è un fenomeno dell'altra dimensione, questi sono quelli che sfruttano da noi, ecco perché sfruttano la nostra energia come battini, ecco perché Thomas H. Burgoyne dice in quel capitolo, Dark Satellite, dice che vedremo un aumento di violenza man mano che recede questo Dark Satellite, dice perché loro si rendono conto di cominciare a perdere controllo sull'umanità. Quindi siamo proprio sulle ultime. Come ti differi? Come ti differi? Io? Con tutto ciò che ho già detto, direi, in senso di dieta, miglioro sempre ogni giorno quello che mangio, cristalli, utilizzo cose così, portate delle belle croce di oro, di argento, pietre, ciacana di giada, questo me l'ha dato il sacerdote del tempio della metà del mondo in Ecuador, a Quito, dell'agente Quito Scara, che questa è la ciacana e lui me l'ha detto, me l'ha dato, me l'ha fatto kinesiologia, ma l'ha fatto sapere che questo mi darà forza, molta forza e protezione. Questi sono semi sacre. Tutto ciò che ho condiviso lo faccio, lo cammino. Si, io ogni giorno cammino sulla terra, scalzo, faccio solar geising, guardando il sole, faccio terapia di orina, faccio le cellule, prendo le cellule, i 12 cellule, meditazione, scusa, i sali, scusa, i sali di schiussle. Beh, io prendo 12 in un coso, in una pastiglia e prendo una manata di quelle ogni giorno. Non avevano niente che fare con i sali di schiussle, no? Sì, sì, i sali di schiussle, sì? Gli stessi. Ah, però c'è Alessandro Curò che ha un amico chimico che mi ha detto a Firenze in luglio che quando lui avrà sviluppato la tecnologia potrà produrre i 12 sali di schiussle senza additivi, ci mettono sorbitol, delle volche, ci mettono lactose, evitate questo. L'amico di Alessandro Curò, lo conoscete? Sì, sì. Bravissimo. E' un sovrano proprio uno che è in avanti qui, in questo paese, Alessandro Curò. Eh, facciamo un break oppure continuiamo? Right? Yeah, ho visto che siamo stanchi, eh?